Dekigeemu, presenta A chi piace approfondire il mondo dei videogiochi sai già che nel 2022 sono uscite tante altre cose affascinanti ad esempio Samurai Bringer, Hyperbolica, Lilgator oppure Tinykin. Scavando ancora più a fondo tra i giochi indipendenti trovi molte altre cose dimenticate con gameplay, stili o personaggi originali. In questo video vorrei proprio aiutarti a scoprire cos'è rimasto nascosto nel sottosuolo videoludico del 2022. Ti consiglio alcuni dei giochi più interessanti di cui nessuno o quasi nessuno ha parlato, in particolare quelli con meno di 500 recensioni su Steam, visto che è sempre un buon modo per intuire quanto sono conosciuti. Poi se ti incuriosiscono puoi cercare delle recensioni approfondite per capire meglio se vuoi giocarli. Dread Delusion è un RPG open world in soggettiva con la grafica 32 bit e uno stile molto esoterico. Sei libero di esplorare il suo mondo pieno di luoghi strani e nemici ancora più strani, tra isole volanti, lune rosse e mostri che sembrano usciti da qualche mito di Cthulhu. Nel gameplay puoi immaginarlo come un classico RPG anni 90, ad esempio i vecchi Elder Scrolls, con tutto il loro mondo pieno di segreti astrusi e missioni che ti fanno andare da una parte all'altra della mappa per trovare un oggetto oppure uccidere qualcuno. Con uno stile del genere pensavo che fosse molto più famoso, però al momento ha solo 450 recensioni su Steam. Elite School Roof Club È la prima di una serie di visual novel corte e demenziali che ho finito con piacere in quest'anno, in cui avevo poco tempo per giocare e tanta voglia di un po' di umorismo. È una versione satirica delle classiche avventure giapponesi e devi aiutare a ristrutturare la tua scuola chiedendo dei soldi agli altri studenti. Durante la storia trovi diverse strade narrative a seconda delle tue scelte e puoi finire in situazioni davvero assurde, tra citazioni di altri videogiochi o anime, decostruzioni di genere, viaggi nel tempo e waifu trollone. Stanno ancora aggiornando il gioco con nuovi capitoli, quindi prossimamente me lo rigioco per trovare i nuovi finali sempre più strani. Al momento ha 8 recensioni su Steam. Di Shinchan Summer Vacation te l'avevo già parlato nel video dedicato, però mi tocca parlarne anche qui visto che come previsto non se l'è cagato nessuno. Praticamente è un capitolo alternativo della saga di Boku no Natsuyasumi creata dal caro Kazu Ayabe, di cui prima o poi farò un documentario per fuori orario videoludico. Di solito in questi giochi vivi le vacanze estive di un ragazzino nella provincia giapponese e immagina di esplorare dei prati e dei boschi attorno a un piccolo villaggio, passare i pomeriggi giocando con gli altri bambini in qualche base segreta, pescare nei fiumi e collezionare insetti nascosti sotto qualche albero. Nel gameplay potrebbe essere un mix tra Animal Crossing e Zelda Majora's Mask o meglio ancora un gioco della stirpe Love Delic. Infatti non ci sono enigmi, non c'è nessun combattimento e neanche dungeon da completare. È un gioco rilassante, incentrato sulla esplorazione della natura e sui dialoghi con gli altri personaggi che incontri. Credo abbia venduto molto meglio su Switch, però su Steam ha solo 130 recensioni. Mini Maker Make-A-Thing è praticamente un giocattolo virtuale, nel senso che costruisci dei modellini strambi seguendo la tua immaginazione e senso dell'umorismo. È diviso i livelli dove hai degli obiettivi, ad esempio creare un personaggio particolare solo con i pezzi che ti danno, magari usando un certo colore oppure un tema particolare. E naturalmente la cosa divertente è creare dei modellini sempre più assurdi, tra ciambelle mutanti con le gambe a forma di spada, dei cavallini satanici oppure dei robot sullo skate. Il bello è che ti lascia molta libertà sul risultato e si può dire che lo giochi solo per il tuo piacere personale, anche se alla fine di ogni livello ci sono dei personaggi che commentano la tua opera e puoi anche vedere come l'hanno fatta delle altre persone sparse per il mondo per trovare delle nuove ispirazioni. È uno di quei giochi che mi fa rilassare e tornare di buon umore mentre ammiro quello che sono riuscito a inventare. Puoi anche giocarlo tutto in coop locale con qualche amico che ha gli stessi gusti creativi e disattivare i nemici e le trappole che ci sono in alcuni livelli. Al momento su Steam ha 25 recensioni. Un'altra visual novel che mi è piaciuta molto per i suoi personaggi pazzi è questo, Mana for Our Malice, che oltre allo stile Eta Uma con cui è disegnato mette insieme talmente tante sottotrame trash che non sai mai dove puoi capitare da un finale alternativo all'altro. Ci sono delle cospirazioni aliene tipo X-Files, dei drammi adolescenziali, dei libri esoterici e sette sataniche. La protagonista è finita in un time loop per cui alla fine di ogni giorno viene uccisa davanti casa e quindi tra una morte e l'altra devi capire cosa sta succedendo davvero nella sua scuola. Il tutto naturalmente senza prendersi mai troppo sul serio. Per ora su Steam ha 10 recensioni. Videogame Fables è praticamente una specie di Paper Mario low budget con personaggi demenziali che sembrano usciti da un gioco di nipponici software. I protagonisti sono la principessa del regno che si rifiuta di seguire la storia, un contadino fanatico degli eroi e poi il figlio del boss finale. Insieme devono salvare il regno da un'altra principessa arrabbiata che l'eroe precedente si era dimenticato di salvare. E lo stile mi piace un sacco, sembra un po' un vecchio gioco Dreamcast con un mondo poligonale essenziale e un mix di sprite e modelli 3D usciti da qualche computer grafica anni 90. Purtroppo non sono un fan dei combattimenti a turni e dopo un po' mi annoiano, però se ti piace il genere c'è un sistema di azioni e abilità che è un po' diverso dal solito. Per il momento su Steam ha 20 recensioni. Megaton Musashi X è la nuova versione gratuita del gioco di Mac sviluppato da Level 5 che era uscito a pagamento nel 2021. Sembra che abbia venduto così poco che hanno deciso di ripubblicarlo come free to play per vedere se riescono a recuperare qualche soldo con le microtransazioni. Nella pratica segue lo stile delle loro avventure di combattimento tra robot, ad esempio Little Battle Experience, con il solito gruppo di ragazzini giapponesi che devono salvare il mondo da qualche alieno o gruppo di cattivi. Puoi scaricarlo gratuitamente dall'eShop giapponese di Nintendo Switch e comprende tutta la storia in singolo del gioco originale con tutti i DLC e poi delle nuove modalità in multiplayer. Da quanto l'ho provato sembra essere giocabile anche senza sapere il giapponese, devi solo andare un po' a tentativi nelle sezioni di avventura quando parli con gli altri personaggi e quando customizzi il tuo Mac. Però poi nei combattimenti basta che distruggi tutti gli altri robot. Non so se verrà mai tradotto ufficialmente, quindi se ti piace il genere vale la pena recuperarlo, intanto che è ancora gratuito su eShop e prima che level 5 fallisca del tutto. Torno alle visual novel con 20B che ha una storia spastica e personaggi ancora più strani, con dei dettagli che mi hanno ricordato un po' The Silver Case, ad esempio il rumore del testo che scorre e quando lo sento mi viene la nostalgia. La protagonista è una ragazza che non può morire, che viene inseguita in giro per il mondo da 8 killer strambi guidati da una sua vecchia amica dell'asilo. Ad esempio una di queste killer è una suora italiana, invece un'altra è una specie di nazista contro l'amore. Ogni capitolo della storia dura solo pochi minuti, con un taglio imprevedibile delle scene che sembrano iniziare e finire all'improvviso mentre la storia era già cominciata a un pezzo oppure deve ancora finire. Il tutto poi diventa molto metanarrativo, però evito di fare spoiler, anche perché il gioco è gratis e dura circa un'ora, quindi se ti incuriosisce fai prima a giocarlo. Per il momento su Steam ha 60 recensioni. Dream Wild è un FPS velocissimo e surreale, con dei livelli in arena dove uccidi decine e decine di nemici bastardi e poi giri per il tuo castello e parli con vari personaggi allucinati che sembrano usciti da qualche gioco di Osamu Sato. Per me le sezioni da sparatutto sono troppo frenetiche e con il mouse non riuscivo a fare nulla e morivo in 30 secondi. Però lo stile mi piace un sacco e quindi ci tengo a consigliarlo se per caso sei un fan del genere. Ha quel fascino oscuro e poligonale da prima PlayStation e poi una mitologia esoterica che ti lascia molte domande aperte a cui forse trovi risposta nel gioco. Andando avanti nei livelli ho visto che c'è anche un rampino per lanciarti in aria e poi altre armi strane oltre alla spada, però non credo che riuscirò mai a usarle. Per adesso su Steam ha 50 recensioni. Flock of Dogs è un gioco strambo per la copp fino a 8 giocatori sia online che in locale, ma purtroppo non ho ancora avuto il piacere di provarlo con così tanti amici. Esplori una serie di isole volanti con i tuoi cani alati oppure con una balena che nuota nell'aria e trovi oggetti per sbloccare nuove strade, armi per combattere contro dei nemici strani oppure ti infili nel sacco a pelo per dormire al torno al fuoco. Ogni volta che inizi l'avventura il mondo viene creato a random e c'è anche una modalità con diversi minigiochi demenziali. Lo puoi scaricare gratuitamente da Steam e per il momento ha solo 30 recensioni. Normal Dating Simulation è un'altra visual novel demenziale con ambientazioni personaggi che sembrano disegnati con paint. Nella storia vai a lavorare per un negozio di vermi in cima a una montagna dove parli con i tuoi colleghi e forse alla fine ti innamori anche di uno di loro oppure se preferisci di un panino. Naturalmente dipende tutto da quali scelte fai durante i dialoghi. I protagonisti sono delle caricature di qualche tipo, ad esempio un ragazzo emo che vive nella casa emo oppure la waifu tsundere che ti odia però ti ama anche. Se ti piacciono le parodie strambe anche questo lo puoi giocare gratis su Steam e per ora ha 100 recensioni. Memomi è un'avventura surreale all'interno di un corpo malato che può guarire solamente grazie a un uccello blu. La protagonista del gioco è una ragazzina che deve ritrovare questo uccello girando per il corpo labirintico pieno di personaggi strani. Immaginalo un po' come Yume Nikki però con tanti enigmi astrosi da risolvere per superare le diverse stanze. La cosa che mi è piaciuto di più sono gli scenari che sembrano usciti da qualche sogno o qualche incubo e sono disegnati mettendo insieme colori e materiali diversi. Ci sono vari finali a seconda delle strade che scopri e al momento ha 6 recensioni e anche questo è gratuito su Steam. Come anticipato quest'anno le visual novel hanno conquistato la mia classifica e anche What If George Washington Was a Girl mi è piaciuto un sacco per la sua parodia storica demenziale. Questo è il primo capitolo di una saga epica dove la protagonista è appunto Georgia Washington che deve combattere contro Mozart che vuole distruggere l'Antartide usando i pinguini come arma. Ci sono dei vari personaggi storici che saltano fuori da un momento all'altro, degli scambi di spazzolini da denti usati, c'è un complotto internazionale da sventare eppure una versione zundere di Napoleone. Per il momento ha 120 recensioni e puoi scaricarlo gratis sempre da Steam. Da qui in poi vorrei farti scoprire degli altri giochi meno conosciuti del 2022 che mi sembrano interessanti però per mancanza di tempo e di soldi non li ho ancora provati. Per questo potrebbero essere o dei capolavori nascosti oppure delle grandi delusioni. Tra questi c'è Kamiwaza Way of the Thief che è il simulatore di ladro del Giappone feudale che in origine era uscito solamente in Giappone su PlayStation 2. Nel 2022 per qualche motivo hanno fatto un port anche sulle nuove console e PC, lo hanno tradotto ufficialmente e pubblicato anche in occidente. Lo stile del gioco è quello di Way of the Samurai quindi se conosci già questa saga più o meno sai cosa aspettarti. C'è un piccolo mondo del vecchio Giappone dove giri per rubare di tutto, dalle monetine, dalle tasche degli altri personaggi ai cartelli che trovi per strada e finisci in situazioni sempre più epiche o assurde. Nel gameplay non puoi combattere però quando schiacci i tasti fai delle mosse demenziali ed escono delle combo da ladro con cui rubi qualsiasi cosa ti trovi davanti. Rubi anche dai samurai che cercano di ucciderti. Naturalmente a seconda di quali missioni segui e quale scelte fai ci sono diversi finali più o meno seri. Per il momento ha 27 recensioni su Steam. After Glitch è una specie di walking simulator dove cerchi delle immagini in piccoli livelli lisergici che sembrano usciti dal finale di 2001 Odissea nello Spazio. Il protagonista è un astronauta finito in una specie di deformazione spazio-temporale per cui ogni area si trasforma e si ripete al suo passaggio come se fossi all'interno di un kaleidoscopio glitchato. Per ora ha 4 recensioni su Steam. Quando ho visto gli screenshot e il trailer di The Legend of Tiger and Fenix me ne sono innamorato. È uno di quei giochi low budget, talmente trash ma con autoconsapevolezza che solo a vederlo mi regala il buon umore. Mi ha ricordato una specie di mix tra Killer7 e Azurus Wrath però molto più punk. Ci sono degli indiani mezzi nudi che si sparano delle onde energetiche in faccia, dei lottatori di wrestling che possono diventare invisibili e si nascondono nei bagni di qualche discoteca e poi combattimenti volanti in mezzo alla città contro dei santoni giganti. A quanto pare i quick time event sono molto molto difficili e a volte non funzionano neanche i controlli e al momento su Steam ha solo 7 recensioni. Divinity è una piccola avventura familiare che sembra essere stata ispirata da Teorema di Pasolini e già solo per questo dovrebbe incuriosirti se sei un appassionato di giochi e cinema. Ma in più ha anche uno stile affascinante a metà tra ritagli di giornale e disegni a pennarello. Tu interpreti un essere metafisico che arriva in una famiglia borghese per sconvolgere le loro vite e ogni componente della famiglia ha un desiderio da realizzare e devi capire come aiutarli manipolando il tempo e attirandoli con le tue abilità. Per ora su Steam ha una recensione. Terror Bane è una parodia dei vecchi RPG a 16 bit una metavventura dove decostruisci il gioco stesso attraverso dei bug per risolvere le situazioni che ti trovi davanti. Ad esempio cambi oggetti e personaggi dal loro nome nel codice in modo che un vaso diventi invece una persona oppure tagli dei pezzi della grafica per riutilizzarli da altre parti ad esempio una porta per poter entrare in una zona segreta. Esplori un mondo fantasy pieno di personaggi demenziali litighi con lo sviluppatore e trovi un sacco di citazioni dalla storia dei videogiochi. Dopo averlo finito la prima volta sembra che puoi rigiocarlo per trovare nuove strade alternative dei nuovi bug da sfruttare e nuovi finali. Per adesso su Steam ha 190 recensioni. Appena ho visto il trailer di Tori mi ha subito affascinato con la protagonista che esplora un mondo surreale con una cassa sulla schiena a metà tra un cavaliere dello zodiaco e le ali di Cardcaptor Sakura e mi piace anche molto l'animazione della corsa devo dire che ha un certo debole per le animazioni divertenti nei movimenti ad esempio la corsa in Breath of the Wild oppure quella dei ninja in Ape Escape 3. Da quanto ho capito questo gioco è diviso in livelli dove risolvi enigmi e collezioni ricordi della protagonista per provare a intuire la sua storia dai lati oscuri. Su Steam per ora ha 9 recensioni. Queer Man è uno di quei giochi che ti mette di buon umore solo a vederlo con un protagonista colorato che saltella per dei livelli strambi e da quanto ho capito giri per delle isole surreali collezionando oggetti per la tua casa che poi ti seguono rotolando per i livelli. Sembra un'avventura spensierata dove il bello è osservare i paesaggi lisergici e camminare senza lo stress di enigmi o nemici. Al momento ha 60 recensioni su Steam. Dal trailer Closer to Home sembra l'ennesima avventura lisergica un po' la Yume Nikki piena di personaggi pazzi i colori epilettici le trappole e i nemici che ti uccidono decine di volte. Lo stile del gioco è abbastanza strano però ho qualche dubbio per il gameplay ma a un certo punto del trailer il protagonista si mette ad andare in skate quindi per me basta questo per volerlo giocare. Per ora ha circa 10 recensioni su Steam. Su console negli anni 90 si vedevano spesso i giochi di sumo però anche quelli non erano così demenziali come Moro Dashi Sumo. A parte la customizzazione dei personaggi con cui puoi creare delle cose assurde tra Godzilla, alieni e ragazzine magiche nel gameplay vince chi riesce a togliere le mutande all'avversario. Naturalmente ha una modalità multiplayer locale quindi immagino sia bellissimo da giocare con gli amici abbastanza pazzi. Su Steam al momento ha 40 recensioni. Si potrebbe dire che Mangol Pove sia un seguito spirituale delle avventure punta e clicca che Osamu Sato faceva negli anni 90 cose tipo Esther Mind e gli altri suoi giochi di cui ti avevo parlato nel documentario che avevo fatto qualche anno fa. Comunque lo stile di questo gioco è esattamente quello con ambientazioni pre-renderizzate e filmati tra cui muoversi con il mouse. Poi ci sono enigmi astrosi e personaggi metafisici che parlano di cose incomprensibili. Insomma è uno stile che mi piace un sacco però ha un gameplay che probabilmente mi farebbe male. Per ora ha 5 recensioni su Steam. Land Screens è un'avventura narrativa con uno stile 2D e un character design che mi piacciono molto. La protagonista dopo essere stata lasciata dal suo ragazzo decide di abbandonare cellulare e social network per una vacanza dove ritrovare il contatto umano con amici e famiglia. Purtroppo come puoi immaginare la cosa non è semplice visto che tutti gli altri personaggi che incontra saranno indaffarati sui loro smartphone. È un argomento che a seconda di come viene trattato potrebbe essere molto banale oppure molto toccante. Comunque nelle 50 recensioni fatte al momento su Steam ne parlano molto bene. RPG Time è un altro di quei giochi con uno stile affascinante che si fa subito notare. È come se tutto il gioco fosse stato disegnato da un bambino su un blocco da disegno usando le matite i ritagli di carta di cartone e delle cannucce di plastica. Non a caso è tutto raccontato da un bambino che invita un suo amico a giocare con la sua nuova avventura di ruolo. Nel gameplay è una parodia dei classici RPG giapponesi. Il protagonista deve superare diversi livelli fantasy come in un gioco punta e clicca analizzando gli scenari usando degli oggetti e combattendo a turni contro dei nemici di ogni tipo. pensavo che fosse molto più famoso però al momento su Steam ha solo un centinaio di recensioni. Echo Divide è un gioco d'azione in prima persona dove esplori un mondo che sembra costruito con qualche vecchio motore 3D un po' strambo tipo quelli usati in extatica. Anche il design dei personaggi e dei nemici ha quello stile un po' trash che ti affascina se sei un fan del genere low budget. Da quanto capito nel gameplay è un semplice hack and slash dove esplori dei piccoli mondi pieni di demoni da uccidere cerchi delle nuove abilità nascoste e provi a sopravvivere contro i boss molto difficili. Per il momento nessuno l'ho ancora recensito su Steam. Quest of Graal è un gioco incentrato sul multiplayer locale in 4 giocatori e dal trailer mi sembra particolarmente divertente. Lo stile degli sprite mi piace un sacco e il gameplay è praticamente una corsa laterale tra piattaforme e mostri per raggiungere prima degli altri il Santo Graal alla fine del livello. Naturalmente durante la corsa puoi usare diverse abilità e oggetti per rallentare gli avversari e superarli scegliendo se uccidere i mostri per rubare le loro armi oppure non perdere tempo e cercare invece delle scorciatoie nascoste. Per ora ha solo 12 recensioni su Steam Mini Mecum è un'avventura stramba dove giri per un'isola piena di personaggi strani che sembrano disegnati con paint dal trailer si vedono un sacco di scene buffe tipo che puoi entrare nei quadri del museo puoi prendere degli ascensori in mezzo alla spiaggia oppure esplorare dei labirinti metafisici. Con il suo umorismo mi ricorda un po' i giochi di Happy Snake e anche qui sembra che ci siano un sacco di segreti e dialoghi divertenti. Su Steam l'hanno recensito solo 20 persone. Once Upon a Jester è un altro gioco demenziale fatto dagli stessi autori di Everybody Wam Wam di cui ti avevo parlato nel 2021. Anche questa è un'avventura piena di umorismo dove interpreti un buffone di corte con il suo amico a forma di calzino che girano per il regno per fare i loro spettacoli teatrali e risolvere i problemi esistenziali degli abitanti. Da quello che vedo nel trailer promette bene e mi piacciono molto queste avventure che non si prendono troppo sul serio piene di situazioni e personaggi divertenti. Al momento su Steam ha 38 recensioni. The Future You've Been Dreaming Of è praticamente una versione MOE di Romania 203 il gioco uscito su Dreamcast dove osservi l'appartamento di uno studente giapponese e puoi influenzare le sue azioni e il suo futuro interagendo con gli oggetti nelle stanze. Qui la differenza è che nell'appartamento c'è una waifu che puoi spiare in pose provocanti quando si veste in maniera succinta però anche aiutarla a studiare per diventare una donna di successo oppure a vivere per strada. Ormai lo sappiamo che in Giappone è diventato difficile fare dei giochi strani se non sono presi da qualche anime oppure senza metterci dentro fin troppo fanservice. Però se ti diverte lo stile otaku trash puoi anche vederci questo lato umoristico. Su Steam l'hanno recensito in 35 persone. This Way Madness Lies è un nuovo RPG di Zeboid Games in pratica quelli che hanno fatto anche Cosmic Star Heroin e Cthulhu Saves The World. Qui le protagoniste sono delle ragazzine magiche in stile Sailor Moon che combattono nelle opere di Shakespeare per salvarle dai mostri. Puoi immaginarlo come una versione umoristica dei classici JRPG con una storia che dura poche ore dove ti ritrovi in un sacco di situazioni divertenti. Al momento ci sono 50 recensioni su Steam. Twin Course è uno shoot'em up su rotaie in stile Star Fox però con l'idea interessante che è giocabile solo con la co-op locale con un amico usate insieme le due astronavi che si possono anche unire tra di loro per diventare più forti con uno dei giocatori che si muove per evitare i colpi mentre l'altro si concentra a sparare sui nemici. Se riuscite a non morire troppo spesso il gioco dura anche meno di un'ora però la cosa bella è che puoi scaricarlo gratis da Steam. Al momento ha circa 40 recensioni. Ship Contracted è uno di quei giochi giapponesi per PC che sembrano usciti dall'epoca PlayStation 2. Ha uno stile surreale e un gameplay dove non si capisce bene cosa succede e cosa devi fare però proprio per questo stuzzica la mia curiosità. A vederlo sembrano un shooter dove usi una ragazza che guida un'astronave in giro per un mondo 3D uscito dalla computer grafica anni 90. Ci sono delle isole volanti in mezzo alle nuvole delle spiagge soleggiate con le palme 3D degli strani edifici futuristici e colori soft che rendono tutto molto vaporwave. I dialoghi sembra che siano solo in giapponese quindi se non conosci la lingua probabilmente non si capisce niente però così potrebbe essere anche più interessante. Su Steam c'è un demo se vuoi provarlo e per ora nessuno lo ha recensito. Theos Quest è un'avventura con la grafica in stile Game Boy Color dove giri per il mondo collezionando carte dei tarocchi che poi usi per combattere oppure per leggere il futuro degli altri personaggi del gioco funzionano anche per interagire con gli elementi del mondo e risolvere alcuni enigmi e sembra una bella idea per un RPG anche se lo avrei preferito senza combattimenti a turni lasciando solamente tutta la meccanica di lettura del futuro tramite le carte. Sono comunque curioso di vedere come sono state implementate nel gameplay e nella storia. Per il momento ha quattro recensioni su Steam Paradise Marsh è un piccolo gioco di esplorazione dove giri per una palude colorata per catturare insetti e animali parlando con le costellazioni nel cielo che ti danno consigli su quello che devi fare. Ogni volta che inizi il gioco viene creata una nuova palude procedurale con dei messaggi nascosti che ti raccontano la sua mitologia senza nessuna mappa né tempo limite per completare la tua missione. È un'avventura rilassante dove giri come e quanto vuoi raccogli erbe e fiori mangi dei funghi lisergici e interagisci con la natura. Su Steam per ora ha 150 recensioni. Quasi ogni anno ormai ti parlo dei giochi di Cosmo D e nel 2022 è uscito questo Betrayal at Club Low. Come al solito quello che mi affascina dei suoi progetti sono lo stile surreale i personaggi bizzarri e le colonne sonore jazz in sottofondo. Questa volta c'è un agente segreto travestito da pizzaiolo che deve esplorare una discoteca per salvare un suo collega. Nel gameplay ci sono diverse scelte che cambiano gli eventi e devi tirare dei dadi come in un gioco di ruolo da tavolo per scoprire se e come riesce la tua azione. A seconda dei risultati puoi raggiungere uno dei tanti finali diversi più o meno assurdi. Su Steam per adesso ha 180 recensioni. One Dreamer è uno dei metagiochi di hacking dove modifichi il codice nel gameplay per risolvere gli enigmi e proseguire nell'avventura. Ad esempio hackeri una porta per cambiare lo stato da chiusa ad aperta oppure editi la velocità del personaggio per farlo correre. Il protagonista è uno sviluppatore di giochi indie stanco e affaticato dal lavoro che ha perso l'amore per i videogiochi. Puoi immaginare come ci sia anche una storia catartica da seguire fino alla fine. Non credo possa superare Hell's Heartbreak come mio gioco di hacking preferito però sarei comunque felice di sbagliarmi. Su Steam al momento ha 210 recensioni. Battlebands è un interessante mix tra gioco musicale un gioco di carte e un roguelike. Parti con i tuoi amici a suonare nel garage di casa e pian piano fai concerti per locali sempre più grandi. A differenza di altri giochi musicali qui metti insieme un mazzo di carte con le varie mosse che fanno i tuoi musicisti da scegliere poi al momento giusto durante le canzoni per rendere il concerto davvero epico. Nella storia ti muovi su una mappa sempre diversa ogni volta che la inizi con diversi eventi battaglie musicali contro dei boss demenziali e vari negozi per comprare nuove carte e vestiti. Puoi anche giocarlo tutto in co-op fino a 4 giocatori. Su Steam adesso ha circa 100 recensioni. Come ogni anno in questa lista di giochi dimenticati ci tengo a citare alcune delle fan translation più interessanti che hanno pubblicato nel 2022. Sono giochi usciti tanti anni fa su vecchie console però erano rimasti solo in Giappone. Adesso i fan li hanno tradotti quindi per noi è come se fossero appena usciti e possiamo giocarli senza problemi. Poi nella descrizione del video ti metti link da cui puoi scaricare queste traduzioni. Tra queste ci sono alcuni giochi di cui ti avevo parlato nel video sui titoli playstation incompresi come ad esempio Planet Laika. È un'avventura fantascientifica a metà tra Parasite Eve Pong del concerto e un incubo surreale alla David Lynch. C'è un gruppo di astronauti con la faccia da cane che esplora Marte per indagare sulla fine del mondo. Il gameplay è praticamente un'avventura con sfondi pre-renderizzati dove esplori una base spaziale su Marte risolvendo enigmi per aprire porte e combattendo contro degli strani alieni. Poi ci hanno lavorato Zekwe insieme a Quintet quindi molto molto contento che sia finalmente tradotto. Anche di Tokimeki High School te ne avevo parlato nel vecchio documentario sul manga punk di Shigesato Itoi era un'avventura con elementi da simulatore di appuntamenti che era uscita su Famicom è un gioco cult per la console anche perché ci hanno lavorato degli autori come Hironobu Sakaguchi e Yoshio Sakamoto per l'epoca era anche abbastanza strano vedere una cosa del genere su console durante l'avventura incontri una ragazza che assomiglia a una cantante molto famosa e seguendo la storia scopri se è davvero lei e magari riesci anche a farla innamorare del protagonista c'era anche un sistema interessante nei dialoghi per cui oltre alla risposta dovevi scegliere anche l'espressione con cui la dici e quindi l'emozione che comunica all'altro personaggio anche con i loro problemi ho amato tutti i capitoli di disaster report usciti in occidente hanno sempre quel senso dell'umorismo tipico dell'avventura di Kazuma Kujo e anche nelle situazioni più drammatiche ti strappano un sorriso purtroppo il terzo capitolo per PSP era rimasto solo in Giappone però grazie alla traduzione amatoriale possiamo sopravvivere anche ai disastri portatili facendo delle scelte demenziali e indossando vestiti improponibili mentre scappiamo da qualcosa molto felice anche di questa fan translation visto che prossimamente dovrei anche lavorare al documentario su Kazuma e quindi mi sarà molto utile poter finire anche questo disaster report 3 quando avevo giocato iblard per il video sui giochi PS1 rimasti solo in Giappone devo dire che il gameplay non mi era piaciuto molto giri per dei labirinti con enigmi alla Zelda e devi capire quale oggetto usare nel posto giusto oppure cosa spostare per aprire delle porte la cosa interessante però è l'ambientazione nel mondo fantasy disegnato da Naoisa Inoue praticamente una serie di isole volanti tra il surreale e il fantastico ambientazione su cui poi ha diretto un paio di anime per lo studio Ghibli quindi adesso che capisco anche qualcosa della storia potrebbe valere la pena di giocarlo ho già parlato a lungo della saga di Popolo Croiss nel documentario che ho fatto nel 2021 e l'anno dopo sono finalmente riusciti a tradurre tutti e due gli episodi per PS1 nel gameplay sono dei classici jrpg pieni di combattimenti a turni però il loro fascino è dovuto allo stile dei personaggi e delle ambientazioni mi ricordano tanto gli anime che guardavo da bambino cose tipo Pollen Yattaman e Chobin che mischiavano delle avventure fantastiche dei personaggi buffi e magari anche dei robot demenziali da noi l'unico gioco della serie principale che è stato tradotto pubblicato ufficialmente è stata la versione per PSP che era una specie di riassunto dei due capitoli PS1 tagliando un sacco di storia adesso invece puoi giocarteli entrambi in inglese con tutta la trama completa ti avevo parlato di driho nel video sui giochi alternativi per la prima xbox però non pensavo che qualcuno avesse mai il coraggio di tradurlo immaginalo un po' come un mix tra minecraft e red faction il protagonista è una specie di gnomo alcolizzato è pure un tasto per bere la birra e poi usa una trivella gigante per scavare sottoterra puoi esplorare il terreno per cercare dei dungeon nascosti e materiali ed è praticamente un piccolo rpg incentrato sulla esplorazione sotterranea con un po' di archeologia adesso che in inglese puoi anche capire cosa ti dicono i vari personaggi che vivono nei villaggi in superficie blue legend of water è un'avventura sottomarina dove nuoti con il tuo amico delfino esplorando delle rovine antiche delle navi affondate evitando i pesci più o meno pericolosi a quanto pare nella storia ti mandano in fondo al mare per cercare il dna dei dinosauri e poterli poi clonare in stile Jurassic Park la cosa interessante oltre all'ambientazione è che nel gameplay puoi dare degli ordini al tuo delfino per risolvere gli enigmi devo dire che non mi vengono in mente molte avventure incentrate sull'esplorazione supacquea e poi questa è una specie di mix tra Tomb Raider e il primo Resident Evil e quindi è strano che non l'avessero tradotto all'epoca il video che ho appena visto è il risultato finale di un anno di ricerche quotidiane praticamente decine e decine di ore a spulciare nei sotterranei videoludici per scoprire e selezionare i giochi che considero più interessanti tra quelli poco conosciuti su Steam e console da gennaio a fine dicembre ho controllato ogni giorno tutti e intendo proprio tutti i giochi pubblicati su Steam e Nintendo e Shop ho letto annunci su forum ho seguito le varie notizie su Twitter e su altri siti di videogiochi se segui il profilo di Geeky Game su Twitter avrai visto che molti di questi giochi li avevo linkati nei mesi scorsi man mano che li scoprivo puoi immaginare quanto tempo sia servito per trovarli giocarli leggere le recensioni di altre persone e quindi scegliere quali consigliare come al solito ci tengo a dire che ci sono altre centinaia di giochi affascinanti e dimenticati pubblicati su siti come Itch però devo limitarmi altrimenti sarebbe davvero un lavoro impossibile per una sola persona per il momento posso continuare a fare queste ricerche sconsiderate nel mondo sotterraneo dei videogiochi solo grazie al supporto dei ragazzi e delle ragazze che mi aiutano con le loro donazioni i canali YouTube più famosi ricevono soldi dalla pubblicità dagli abbonamenti su Twitch e dalle collaborazioni con le aziende un progetto di nicchia come Gekigemu esiste solo grazie al supporto di altri appassionati se anche tu hai voglia di aiutarmi puoi leggere come fare nella pagina di Gekigemu su Patreon a presto e grazie per il supporto e per il servizio di Gekigemu suurdi